Ho qui a mio fianco Paola Bertone, una piccola istituzione del tiro con l'arco, visti i risultati ottenuti, posso essere cattivo in gioventù, adesso un tecnico estremamente valido della Federazione Italiana di Tiro con l'arco, esattamente di quale settore ti occupi? Del settore olimpico femminile giovanile. Nonostante un iniziale dubbio, io a Singapore non so dov'è, invece sei stata a Singapore a seguire la squadra, quindi esattamente quali sono state le tue impressioni? A parte l'esperienza fantastica di una prima olimpiade che purtroppo ad atleta non sono riuscita a raggiungere, un'enorme soddisfazione vedere comunque il lavoro fatto qui in Italia sta cominciando a dare i suoi frutti, che c'è comunque collaborazione tra il settore della nazionale e si comincia con i tecnici personali e poi squadra purtroppo no perché un maschio è una femmina in base ai regolamenti che c'erano, ma è stato creato il mix team misto per nazione ed è stata un'esperienza bellissima, bella. Consiglio un cambiamento di formula per le prossime olimpiadi giovanili oppure è stata un'ottima esperienza per favorire la conoscenza reciproca di culture diverse, di esperienze diverse? Consigliare cambiamenti no, è stata una scelta, all'inizio eravamo tutti un po' titubanti anche perché si temeva di non riuscire ad aggregare i ragazzi, invece per quanto mi riguarda perché magari qualche altro accoppiamento è stato meno fortunato, per quanto mi riguarda è stato perfetto, sono riuscita finalmente a far sorridere il tecnico bielorusso che in tre anni visto sui campionati europei non l'avevo mai visto, quindi bene, bene. Ricordiamo che la nostra atleta che seguivi personalmente è Gloria Filippi che è stata abbinata appunto a un bielorusso, ti ricordi il nome? Il nome si Anton, il cognome, non lo saprei nemmeno pronunciare quindi non lo dico neanche, hanno vinto una stupenda medaglia d'oro, emozionante. Freccia per freccia, vissuti noi tecnici insieme dall'alto e gli atleti da soli sul campo delle semifinali, finali, bello. Ricordiamo che appunto facendo questa formula del mixed team, cioè un maschio e una femmina, ma di due paesi diversi, significava anche che non hanno mai potuto allenarsi insieme, quindi provare le varie sequenze di tiro. Come si sono comportati alla fine? Beh, si hanno vinto l'oro ovviamente bene, ma si sono subito aggregati, hanno avuto qualche titubanza? Si sono subito aggregati, hanno stabilito chi avrebbe iniziato a tirare per primo, si sono aggiustati sui tempi, nonostante Gloria fosse un pochino lunga, il ragazzo non ha avuto problemi ad adeguarsi e a velocizzare la sua azione. Perfetto, medaglia d'oro giustamente. Per il futuro della nazionale femminile e giovanile Ricurvo, quali sono i prossimi appuntamenti, quali sono le aspettative? Beh, innanzitutto l'aspettativa è che il vivaio sia un pochino più folto perché manca un pochino il settore femminile, giovanile e questo è l'augurio, che aumenti, che ci sia più interesse, che si riesca a incrementare anche i risultati. Poi come ogni anno ci sono le prove di Junior Cup e prima abbiamo il campionato europeo indoor a marzo con le Junior. Qualche consiglio per riuscire a incrementare questo vivaio? Bisogna ovviamente partire dalla base, hai qualche consiglio da dare? Io penso che la difficoltà maggiore è che i giovani e soprattutto le ragazze di oggi hanno talmente tanti interessi che penso la cosa più importante sia accattivarle, circuirle e mantenerle perché tante cominciano e poi lasciano, non c'è più lo spirito del sacrificio per poter ottenere il risultato purtroppo. Purtroppo il tiro con l'arco, ripetiamolo, io sentivo degli allenamenti per il nuoto per essere a livelli mondiali proprio ieri a Milano in cui diceva che si allenava due ore al giorno nel tiro con l'arco per arrivare a livelli mondiali due ore al giorno basta o no? Vabbè, se lo facessero forse comincerebbe, si comincerebbe a vedere qualcosa perché dubito che ci siano tante ragazze che fanno due ore di allenamento al giorno, quindi allenarsi, allenarsi, allenarsi e cominciare a pensare di diventare atleti a 360 gradi, non solo più il tirare che non è più sufficiente con i livelli che ci sono in campo internazionale al giorno d'oggi. Sei stata recentemente eletta come rappresentante dei tecnici a livello europeo nell'EMAO. Cosa significa per te? Sono stata eletta nella commissione di sviluppo giovanile dell'EMAO. Sì, non rappresentante dei tecnici. Spero di riuscire a trovare insieme agli altri membri un sistema di incremento e di sviluppo del tiro con l'arco in ambito giovanile. Quello sicuramente sì. Come opinione personale, se ci fosse una maggiore visibilità del tiro con l'arco, invece del grande fratello, tanto per dire, facessero vedere Cantalupa. Secondo te Cantalupa è il centro federale dove si allena e dove fanno i raduni la nazionale di tiro con l'arco. Secondo te aumentare la visibilità potrebbe incrementare la voglia dei giovani ad avvicinarsi al tiro con l'arco e proseguire su questa strada? Poi potrebbe anche essere una soluzione con i mezzi informatici, televisione, computer, tutto, che sono il pane quotidiano dei nostri giovani e potrebbe sicuramente attirare qualcuno, se non altro incuriosire. Quindi tutti a chiedere a Sky di fare un canale tematico per il tiro con l'arco? Non sarebbe male, non sarebbe decisamente male. Va bene, Fonte, ti ringrazio tantissimo e invito anche te alla firma di questo tabellone contro il doping che è in collaborazione con la WADA, che è la World Anti-Doping Association e la FITA. Prego. Voglio dire una cosa a proposito di questo. I tiri di prova ufficiali, le prime volei a Singapore, sono stati fatti con i bersagli, proprio così, col centro, con questo shoot clean. Quindi ogni atleta delle Olimpiadi giovanili ha avuto modo di riflettere su questa cosa ed è stato bellissimo. Oh, finalmente un'iniziativa seria contro il doping, anche se francamente nel tiro con l'arco non ho mai sentito parlare di doping volontario. E speriamo rimanga così, eh. Grazie mille. Grazie mille.